Ciao a tutti, siamo qua, come avete sentito da Arturo tutto tranquillo, il mare tranquillo, navighiamo verso l'obiettivo, abbiamo fatto la riunione con il capo spedizione David che ha definito i ruoli dei vari gruppi a bordo, la strategia di campionamento visto che abbiamo meno tempo di quello che avremmo dovuto avere, io cercherò di dare il mio contributo aiutando anche dal punto di vista proprio oceanografico e delle misure, Arturo continua bene il suo lavoro, siamo contenti, un salutone e vi teniamo aggiornati, ciao!